buongiorno e benvenuti su questo canale oggi vediamo una canzone di antonello venditti il mitico artista che io amo in modo particolare perché mi ricorda compagno di scuola tante cose quando avevo 18 anni usciva l'album lilly e poi successivamente compagno di scuola insomma tutte queste canzoni che hanno segnato veramente un'epoca oggi andiamo a sentire forse la canzone più conosciuta sotto il segno dei pesci andiamo a sentirla e poi ve la spiego nota per nota ti ricordi quella strada eravamo io e te e la gente che correva grida e gridava insieme a noi tutto quel che voglio pensavo è solamente amore unità per noi che meritiamo un'altra vita più giusta e libera se vuoi corri amore corri non avere paura mi chiedevi che ti manca una casa tu ce l'hai hai una donna o una famiglia che ti tira fuori dai guai ma tutto quel che voglio pensavo è solamente amore è solamente amore unità per noi che meritiamo un'altra vita che è giusta e libera se vuoi nata sotto il segno nata sotto il segno amore sono i pesci ed il rock passava lento sulle nostre discussioni diciotto anni sono pochi per promettersi il futuro ma tutto quel che voglio dicevo è solamente amore unità per noi e meritiamo un'altra vita lenta e tenera se vuoi figli di una vecchia canzone e e e e e e e una delle più famose canzoni di antonello venditti l'ho fatta in sol se vuoi farla in tonalità originale e devi partire con l'accordo di do se io metto un capo tasto al quinto tasto avrò la tonalità originale però avrò la possibilità di scegliere tra altre cinque tonalità quindi capo tasto zero sol capo tasto al primo sol diesis la la diesis eccetera eccetera quindi avrò una vasta gamma di possibilità in ultima analisi sol re do re sol posso trasformare il sol in do per andare in tonalità originale quindi se il sol diventa do è andato avanti di cinque semitoni il re diventa sol e il do diventa fa quindi diventerebbe do un po' scomodo questo passaggio fa sol così veloce in sol in realtà si presta per fare tanti abbellimenti perché la diciamo l'accordatura di sol ha tutte le note libere quando io faccio una scala di sol nella scala di sol ho mi si sol re la mi le ho dentro tutte quindi quando suonavo continuavo ad abbellire con note e accordi mescolate insieme utilizzando note della scala pentatonica o della scala di sol maggiore che me le trovo tutte libere anche il re qua basta che schiaccio il tasto quindi risulta molto più semplice anche l'accompagnamento poi antonello venditi una voce da tenore se non hai la voce da tenore ti consiglio di abbassare valuta la posizione di sol come l'ho fatta io che sicuramente sarà molto più comoda se avessi una voce un po' più alta potresti cambiare gli accordi o usare il capo tasto viceversa ripeto in tonalità originale sol re e do diventano do sol fa quindi do qui dimenticati gli abbellimenti perché con un fa con un barra in mezzo non c'è il tempo di inserire degli abbellimenti mentre l'accordo di sol si presta perché io potrei suonarlo anche così se io suono le note centrali è già un sol no? quindi si presta a fare tante cose tipo eccetera eccetera ma stiamo parlando di antonello venditi bene allora il giro di accordi bene o male è principale questo c'è una parte ritmica appunto che facciamo tre do re sol re do re sol re do re sol girai a interiorizzare questa parte prima di iniziare a cantare quindi poi quando l'avrai interiorizzata bene ti ricordi quella strada eravamo io e te e la gente ti accorreva lì ha avuto il tempo di inserire 5-6 note poi dipende da che livello sei non è necessario venditi non le inserisce ma comunque ha un'orchestra che suona alle spalle suonando solo con la chitarra se riesci a inserire le note stile alex britti come io ho fatto in questo momento sicuramente sarà una cosa molto carina e che ti divertirà e che divertirà si pensa anche gli altri quindi sono 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 quindi vediamo come parte il cantato ti ricordi quella strada due sono e va avanti così ma via e praticamente va avanti così finché arriva un La minore ok quindi e va bene avanti la gente ci accorreva e uscola va insieme a noi. Come dico noi devo andare in La minore a noi. Tutto quel che. E va di nuovo in Re. Voglio pensavo. E sta a due battute in Re. E solamente amore. E riprende il giro. Non è proprio una cosa per principianti ma io l'avevo imparata quando suonavo da pochi anni. Forse un anno. E quindi se ce l'avevo fatta io ce la potrei fare anche tu. Chiaro che se suoni da due settimane insomma non è il massimo. Però si può provare tutto. Re. Quindi qui cambia il ritmo. Va su una terzina. Quindi fa una terzina in Re e una terzina in Do. Quindi so. Re. Do. E so. Re. Do. So. Re. Do. Quindi le terzine le fa in Re anche in Do. E ogni volta che cambia fa la terzina. Sol. Re. Do. Terzina. Quindi. Sol. Napoli. 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 Do. Se preferisci. Verona. Però l'accento sta tanto bene. Verona. Sol. Verona. 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 Ma vediamo un'altra città. Boh. Non lo so. Puoi inserire quello che vuoi. L'importante è questa terzina. Ok. Quindi. La terzina la fa su quattro. Uno. Due. Tre. due. Tre. a Grazie per la visione!